buonasera innanzitutto grazie ad antonella per l'invito è un caro saluto ad antonio che ho già avuto occasione di non ci conosciamo personalmente ma ti ho già ascoltato in un paio di occasioni e quindi ho deciso di investire molto brevemente io sono in iag da tre quattro anni ho fatto una trentina di investimenti sinora in iag più altri foria che in particolare io faccio parte anche di un network tipo iag di business angels a parigi pb a paris business angels non so se antonio li conosci o ai picciato con loro forse motivi per cui molto brevemente ho deciso di di dare il mio contributo ad antonio da piccolo investitore mi è piaciuto molto antonio devo dire la squadra trovo piuttosto rara l'esperienza che antonio e non solo come numeri come come aziende che ha già creato ma per il successo che ha ottenuto quindi a un track record che per le start up che io personalmente sono abituato a vedere nei pitch è eccezionale ho trovato geniale l'idea di combinare la ai con dei dati anonimizzati e per consentire una specie di democratizzazione forse dell'uso dei dati a me è piaciuto molto vedere una platea potenziale di concorrenti di google creata da zero da antonio e dal suo team questo l'ho trovato straordinario come idea il fatto che abbiano già un track record nel giro di diciamo di traction nel giro di qualche settimana secondo me conferma che si tratta di un di un'idea che per me era questa geniale non ho mai sentito un'opportunità del genere e infine mi piace molto quello che è l'impronta geografica al footprint dell'azienda che a contrario di tante che si limitano a piccoli mercati in questo caso mi sembra partire soprattutto dagli stati uniti mercato particolarmente ampio dove i clienti di fantix si scontreranno proprio con i google a casa loro insomma mi sembra se ho capito grazie Matteo per per le parole anche molto gentili no è così il focus è stati uniti iniziale perché c'è un mercato molto ampio poi possiamo venire una volta che siamo consolidati qua abbiamo già idee di come aprire in europa stiamo esplorando una partnership nel in gran bretagna tramite true layer è una piattaforma di open banking che è diventato un unicorn creata da due fondatori italiani simoneschi e luca martinetti e loro potrebbero essere il partner per creare una federazione in gran bretagna però il focus al momento negli stati uniti questa è un'azienda americana azienda che andrà incontro a valutazioni del mercato americano ovviamente sono un po rallentate gli ultimi due anni ma adesso c'è si sta riprendendo soprattutto al settore AI e che eh beneficerà eh via di 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 un exit sul mercato americano quando ci sarà quindi è molto molto interessante grazie mille però per per il tuo punto di vista ecco un'altra domanda che questa è un po' più provocatoria ma poi dopo io so già che tu hai la risposta nel senso che ehm è del motivo per cui noi ti abbiamo proposto agli investitori italiani perché ehm se hai la società italiana scusa americana eh fai una parte di fundraising in Italia allora il fundraising è stato fatto a livello internazionale no? Quindi è un progetto internazionale secondo me è bene che abbia investitori internazionali perché poi al momento giusto fra l'altro eh possono essere di supporto con esperienza conoscenza e network nei vari paesi quindi noi abbiamo investitori americani abbiamo investitori britannici abbiamo investitori italiani se il discorso di allocare una parte dell'investimento in Italia ha perfettamente senso se si pensa che tutto il team tecnologico è in è a Milano eh io personalmente pur essendo doppio cittadino comunque vengo dall'Italia eh e eh riteniamo che l'Italia possa essere eh uno dei mercati dopo gli Stati Uniti di interesse quindi avere comunque un network anche di angels che ho trovato nella mia esperienza per esempio gli angels sono quelli che poi si riescono a essere più di aiuto perché sono magari esperti di certe aree hanno network eh avere degli alleati no? Per un progetto di questa portata servono alleati internazionali nei mercati dove ci dove pensiamo di poter lanciare quindi aveva senso data la diciamo la natura del team la posizione del team la geografia del team dice che sviluppa Milano e l'opportunità di lanciare poi in Italia e di avere anche degli alleati in Italia quindi stiamo facendo una raccolta da questo punto di vista molto internazionale grazie a tutti grazie a tutti